Dunque buongiorno a tutti, saluto e ringrazio la Presidente De Luise e tutta la Confesercenti per questo invito. Mi spiace non essere riuscita a essere con voi questa mattina a Venezia, città meravigliosa che, come si sa, amo molto, però non potevo far mancare il mio contributo, in ogni caso la vostra assemblea annuale. Prima di tutto voglio congratularmi con voi per l'idea che avete avuto di utilizzare il metaverso per l'evento di oggi, scelta che dà la misura della capacità di Confesercenti, dei suoi associati, di saper raccogliere senza timori, senza pregiudizi, le sfide che il futuro ci mette davanti. È una caratteristica comune a tutto il mondo imprenditoriale italiano che ha consentito alle nostre imprese di affrontare cambiamenti epocali in questi anni. Penso su tutti all'avvento del commercio elettronico, le grandi piattaforme online, un'innovazione che la pandemia ha contribuito ad accelerare in modo determinante, che, come tutti i cambiamenti, se non è adeguatamente governato, può portare insieme a grandi opportunità anche enormi rischi. È un cambiamento che è ancora in atto, sul quale è necessario, dal mio punto di vista, trovare un giusto equilibrio per fare in modo che il suo impatto sul nostro sistema economico e produttivo sia sostenibile. Certo, noi possiamo contare su due punti di forza. La capacità di fare rete dei commercianti e degli artigiani italiani e la straordinaria potenza del Made in Italy, un brand globale di cui i colossi del commercio non possono fare a meno che nessun altro è in grado di eguagliare. Nessun commercio elettronico colosso del web potrà mai sostituire la funzione culturale e sociale che ricoprono i commercianti, gli artigiani, gli esercizi di vicinato. Voi siete dei presidi di sicurezza e di socialità, il principale antidoto alla desertificazione delle nostre strade, allo spopolamento dei nostri borghi. In questo compito non potete essere ovviamente lasciati da soli e noi siamo convinti che lo Stato debba fare la sua parte. A partire proprio dalla sicurezza, che è la precondizione per fare impresa e permettervi di alzare ogni mattina la saracinesca della vostra attività. È il motivo per il quale questo Governo ha deciso di aumentare gli organici delle forze dell'ordine, distanziare un miliardo e mezzo di euro per rinnovare i loro contratti, potenziare l'operazione Strade Sicure, riconoscere ai nostri uomini e alle nostre donne in divisa maggiori strumenti per fare il proprio lavoro. E poi non solo sicurezza ovviamente, ma anche grande attenzione ai nostri borghi, a chi decide di vivere e lavorare in collina e montagna, nelle aree più interne della nazione. Stiamo lavorando per prenderci cura di questi tre territori che custodiscono la nostra identità più autentica, che non devono essere lasciati indietro. Garantire risposte veloci in termini di servizi alle esigenze specifiche di ciascun territorio è una priorità per noi. Essere al fianco di chi come voi rappresenta un pezzo importante dell'economia italiana vuol dire anche costruire un fisco alleato di chi produce e che non considera più un imprenditore, un commerciante, un artigiano come un evasore fino a prova contraria. Noi vogliamo cambiare approccio, vogliamo affermare una cosa semplice. Il cittadino non è un suddito da vessare e il rapporto con lo Stato deve basarsi sulla fiducia e sulla collaborazione. È una visione che abbiamo declinato anche nella riforma fiscale che trova la sua attuazione concreta in alcune norme molto importanti. Penso ad esempio all'estensione del concordato preventivo ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo. È uno strumento che dà la possibilità di accordarsi preventivamente con il fisco sulle imposte da pagare ed essere liberi da accertamenti per i due anni di durata dell'accordo che poi è rinnovabile. Un grande segnale di fiducia e di collaborazione perché io credo che è da qui che l'Italia deve e può ripartire. Dalla fiducia reciproca, dalla capacità di scoprirsi parte di una comunità, di pensare ciò che si fa ogni giorno come parte di un progetto più grande, come parte di un progetto più alto. È un sentimento che in passato ha reso l'Italia ciò che è e che oggi noi dobbiamo saper recuperare perché il governo potrà adottare le norme migliori del mondo, le più efficaci, le più giuste, ammesso che sia capace di farlo, ma tutto sarà inutile se gli italiani non sapranno riscoprire l'orgoglio di se stessi, la consapevolezza delle proprie capacità. Questa è in assoluto la sfida più grande che abbiamo davanti e su questo però io sono certa che posso contare sul vostro contributo. Quindi grazie davvero per quello che rappresentate, grazie per il lavoro che fate, grazie per l'interlocuzione che avete garantito al governo su tante materie che sono importanti per voi e per la nostra capacità di dare risposte ai cittadini e ovviamente buona Assemblea. Grazie. 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 Grazie.